Tre giovanissimi talenti dello sci Ciociaro accedono alla fase finale di Pinocchio sugli sci, una delle cinque gare più importanti al mondo dedicate ai bambini da 8 a 15 anni. Si tratta di Francesco Mazzocchia, Lorenzo Fanella e Federico Mazzocchia. I tre giovani, tutti di Alatri, hanno sbaragliato la concorrenza nella selezione finale della Regione Lazio, che si è svolta sulle piste di Campo Felice, guadagnando l'accesso alla finale. Per tutti, una grande prova di slalom gigante che ha valso il passo alla finalissima nazionale della Betone. Francesco Mazzocchia, in forza allo sci club Campocatino, ha solo nove anni, ma è presente da tre sulle piste da sci di tutto il comprensorio italiano. E Lorenzo Fanella, in forza allo sci club Alatri, anche lui, anno 2005, new entry nel carosello agonistico sciistico, si sono dati battaglia nella categoria baby del gigante che valeva l'ingresso alla fase nazionale, che si disputerà a metà marzo sulla famosissima pista Zeno-Colò, vetrina attraverso la quale sono passati i più grandi campioni dello sci italiano come Tomba e Ghiedina. A fianco a loro da segnalare la prova di Federico Mazzocchia dello sci club Campocatino, che appena rientrato da un doppio infortunio estivo, è salito sul gradino più alto del podio, guadagnandosi l'ingresso alla fase nazionale del Pinocchio. Per i tre giovani talenti alla Trenzi, allenati da Cristian Restante, dunque un appuntamento per crescere ancora.